buonasera a tutti sono Benni del THP come vedete in versione natalizia voglio fare un salutone grandissimo a tutto il team ai nostri sponsor e oggi sono in questa festa perché vi vogliamo fare un omaggio simpatico per augurarvi buon natale buone feste e felice anno nuovo e sarà un video con i nostri backstage simpatici dietro le guide un po particolari molto divertenti sapete perfettamente che siamo un gruppo serio e professionale però sono successe delle cose particolari quindi vorremmo farvi questo augurio speciale come abbiamo fatto l'anno scorso lo facciamo quest'anno e con tanto tanto affetto un abbraccio grandissimo dal THP a tutti voi ciao e salutiamo i tuoi componenti ma io non mi fai ride tu perché vai la faccia strada ecco guarda questo pello l'altro ci sono io bravo così dove vieni che è così vai guardate come hai camminato al capetto ragazzi con il video la pasta la pasta oh ho 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 ho, oh ho 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 hard non lo so non lo so non lo so non lo so aiutate dai a me a telecamera dai a me a telecamera aspetta aiutate dai a me a me aspetta aspetta che cosa faccio la batteria che batteria aspetta di Gesù Cristo aspetta non Gesù Cristo io adesso perchè già gli giuro ecco guarda che cosa ecco ci ammazzimo chi è che veniva ecco ma che cazzo sono sti piatti ma chi è che veniva ecco ma che cazzo sono sti piatti ma chi è che veniva ecco non prendi giallo ecco ci possiamo ammazzare e su quella finestra si palesò un'ombra nera un'ombra umanoide da forma umana 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 ripartiamo? si palesò si palesò un'ombra nera un'ombra nera antropomorfa dalle forme dalle forme umana dalle forme umana ok ok allora si palesò da quella finestra un'ombra nera dalle fattezze umane che si affacciava entrava e usciva finchè i ragazzi non scapparono via ma la cosa particolare non si riesce non si riesce non si riesce adesso proveremo ad entrare noi cercheremo di capire e di vedere se c'è ancora qualche rimasuglio rimasuglio se stai messo a discutere c'è da roba se mi sta uscendo rimasuglio ma che roba è? io non so guarda che non mi sento proprio in forma per prosciutto non mi sento proprio in forma allora buonasera stiamo ritornando adesso indagine particolare forse la... allora buonasera eccoci qui io non riesco ma che sto coglione allora abbiamo finito l'indagine stiamo rientrando è notte fonda quasi mattino è stata un'indagine particolare forse la più strana la più particolare che abbiamo fatto che è successo? insetto nell'occhio? ci siamo? siamo in diretta ma tagliamo? tornando seriamente stiamo vivendo siamo qui vicino al pozzo siamo tutti vicini ci sono gli ospiti come abbiamo visto è stata una bella indagine io mi sposto e mi metto proprio qui taglialo scusi ma non riesco allora siamo qui eccoci qui abbiamo finito l'indagine e siamo vicino al pozzo ma anche questo non lo posso non lo posso tagliare tutto se sto sentito ma secondo te si può fare una cosa del genere? eccoci tagli siamo una seriale a palestrina e stasera il THP alla radio volta libera ok ciao belli un abbraccio grandi ciao ragazzi ciao